che pioggia insistente non smette più hai seguito le orme di tuo padre ti sei allenato tanto e ora sei una guardia reale e sei migliorato fino ad essere scelto dalla spada che esorcizza il male hai raggiunto risultati ammirevoli ma se se tu se tu non avessi avuto alcun talento per la spada e nonostante questo ti avessero costretto a diventare una guardia reale solo perché la tua è una famiglia di cavalieri se te l'avessero ripetuto all'infinito avresti intrapreso lo stesso cammino